Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi come convertire un numero decimale, cioè a base 10, in codice binario a base 2 Allora, prendiamo come esempio il numero 20 Facciamo una stanghetta E alla sinistra, cioè sotto il 20, dobbiamo scrivere i risultati Mentre alla destra il resto Dobbiamo sempre dividere per 2 Come si fa a capire se il resto è 0 e se il resto è 1? Il resto è 0 quando non c'è il resto Ok Mentre 1 quando c'è il resto Qualunque sia il resto, noi dobbiamo mettere sempre 1 Se invece non c'è il resto, mettiamo 0 Allora, 20 diviso 2 10 Con il resto 0 10 diviso 2 5 Con il resto 0 5 diviso 2 2 Fa 2,5 2,50 Però Dobbiamo inserire solamente il 2 Cioè non dobbiamo mettere i numeri dopo la virgola Dobbiamo mettere solamente il primo numero Quindi fa 2 Con il resto di 1 Perché? Perché c'è Fa 2,50 Noi scriviamo 2 Comunque il resto c'è Perché è il resto di 2,50 Quindi dobbiamo mettere 1 Poi 2 diviso 2 Fa 1 Con il resto di 0 Poi Sì, punto esclamativo Certo Poi 1 diviso 2 Fa 1 Cazzo di 1 diviso 2 Fa 0 Sono confuso 0 Con il resto di 1 E lo 0 lo lasciamo così Quindi Cosa abbiamo calcolato? Abbiamo calcolato Il Il codice binario Del Del decimale 20 Come facciamo a capire però? Perché È un po' Cioè non è complicato Però A vederlo così E uno dirà Ah vabbè Ho trovato il binario Già fatto Invece non è così Perché Noi dobbiamo riscrivere Allora vi faccio vedere Il 20 equivale a Il 20 non equivale a 0,0,1,0,1 Ma equivale a 1,0,1,0,0 Perché noi dobbiamo prendere Il primo numero Deve essere Quello in basso Quindi 1 Poi 0 Poi 1 Poi 0 E poi 0 Quindi Con questi semplici Passaggi Che vi ho spiegato Possiamo trovare Possiamo convertire Un numero Decimale A base 10 In un numero O codice binario A base 2 Grazie a tutti E al prossimo video Grazie a tutti